Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Qui è EnderGamer E ci è venuta l'idea di giocare a PES 2017 Con la telecamera del cellulare Quindi faremo una partita divisa in due parti Visto che se no poi dura troppo E spero che... Vabbè ti è rotta Perché... Ragazzi quando la partita inizia Vi rimetto la registrazione Ragazzi la partita è iniziata Eccoci qui Ragazzi aspettate devono andare in bagno Ragazzi come vi avevo detto nel primo video Volevo fare video con la webcam Di PC E... Nintendo su richiesta Ma... Ci è venuta questa splendida idea Di fare PES 2017 E darvi dei consigli Sulla Playstation E ragazzi Se andiamo a 2 like Continueremo la serie di PES 2017 Ragazzi ci conto che arriviamo a 2 like E spero che in qualche modo ce la faremo E gol Barcellona Aspettate un attimo Qualcuno deve andare in bagno Ok ragazzi riprendiamo Ok ragazzi riprendiamo Queste partite saranno divise in due parti Visto che se la facciamo solo una parte Ven'è un po' troppo lungo Quindi Ora ci staremo zitti per tutta la durata della partita Cioè del primo tempo Per tutta la durata del primo tempo E poi ci vediamo nella seconda parte E poi ci vediamo la parte Attenzione ragazzi Avevamo fatto un'azione stupenda Ragazzi stiamo quasi alla conclusione Della prima parte E il risultato è 1 a 0 per il Barcellona Oh Per poco eh Ragazzi per poco eh Ragazzi Vi diciamo una cosa Allora Di comandi Sono più facili Quelli di FIFA Ma Di grafica È meglio quella di Pesso Vero diciamo Per farvi scegliere Preferite giocare con i comandi Belli O Giocare con Comandi brutti Ma grafica Spettacolare Cioè non dico No dico Sto dicendo che Comandi brutti Però A me Non riesco a Per me sono un po' Però per me sono un po' Più difficile Per me è un po' Più difficile Giocare a Pesso Sì lo so Ma dico Non sono abituato A vedere la barra Cioè non sono abituato A vedere la barra Sopra Cosa Ragazzi è finito Il primo tempo Ci vediamo Nella seconda parte Grazie